Ciao a tutti ragazzi sono Termi, bentorni in questo video di la serie Dior al Beat Oggi ero modubi di Marrakesh prodotta da Mardz e Zeff O solo da Mardz sinceramente non mi ricordo quindi non l'ho controllato Quindi stavolta sono abbastanza dubbioso sul producer Questo è l'ultimo video dell'anno quindi Yankshit Non vi faccio gli auguri perchè porta sfiga Cioè prima, cioè questo video esce il 31 Magari qualcuno lo vede dopo però non Non mi sembra il caso Andrò un attimo a controllare chi sono i produttori Sono Mardz e Zeff, ok perfetto Vorrei di cominciare subito, il pezzo non è troppo complicato a livello di produzione Questo è proprio un classico esempio di bit abbastanza semplice E funziona perchè ha le variazioni giuste nei punti giusti Le drums giuste nei punti giusti E gli elementi giusti entrano nei punti giusti Quindi è una produzione a pennello su misura Che veste Marrakesh in una maniera incredibile Cioè è proprio perfetta Quindi cominciamo subito Come prima cosa abbiamo il classico piano di K-Scape Utilizzato già altre volte da Mardz e Zeff Quindi basta aprire Omnisphere Metterci dentro la libreria di K-Scape Aprire il classico LA Custom C7 Gran Piano E sopra ci ho messo il Secret Sauce Cioè il Drip Plugin di Kyle Beats In questo caso il preset è l'Infinite Ho fatto un po' di modifiche su questa roba Perchè mi serviva giusto lo Spice Che è quella roba che dà un po' di effetto wobble Ho aggiunto poi un RC20 in questo modo E infine un Pro Q3 Come ultima cosa c'è un filtro cutoff Che si apre e chiude in alcuni punti Ma questo non è troppo importante Per la melodia abbiamo questa melodia qui In alcuni punti Almeno quasi per tutto il pezzo E poi l'altra melodia Che entra solo in alcuni punti È questa qui Ci dà una variazione abbastanza importante E suona così E c'è anche questa counter melody Che si sente davvero pochissime Proprio bassa bassa Sempre con lo stesso piano Solo che non può dire verbero in più Dico che questa variazione è molto importante Per il semplice fatto che adesso Quando andremo a analizzare la teoria musicale Vedremo che questi due accordi Sono estremamente importanti A livello armonico Per la produzione Il pezzo è scala major In chiave A bemolle E gli accordi utilizzati Per la prima parte di melodia Ovvero quella che si sente Per la maggior parte del beat Sono il primo e il terzo accordo della scala Credo che in questo caso Mars e Zeph non abbiano utilizzato La versione completa di questi accordi Ma bensì la versione power short Ovvero la versione dell'accordo Formata solo da root note e quinta Quindi senza la terza Poi magari potrebbe anche essere Che la terza effettivamente c'è negli accordi Ma è stata mascherata magari dalla velocity Perché magari hanno messo la velocity un po' più bassa Quindi non si sente tanto a livello di volume Però io sinceramente Sono stato lì ad ascoltare varie volte E non la sentivo proprio la terza negli accordi Quindi sono abbastanza sicuro Anche perché la versione power short In italiano accordo potente Se non sbaglio Dà un po' più aggressività agli accordi Perché ovviamente viene omessa la terza Che sarebbe la nota che dà Diciamo il modo all'accordo Ora non so se è giusta questa definizione Non sappiamo bene se è un accordo minore o maggiore O mettendo la terza E quindi suona un pochettino più aggressivo Analizzando la top melodi Rispetto agli accordi Possiamo notare che la prima nota È la sus2 del primo accordo La seconda sarebbe la quinta E la terza sarebbe la terza maggiore Quindi la nota che conclude l'accordo di A bemolle maggiore Mentre per le altre note abbiamo G Che in questo caso sarebbe la quinta Del secondo accordo Poi abbiamo C Che in questo caso sarebbe la root note Abbiamo A sharp Che in questo caso sarebbe una settima E infine G sharp Che sarebbe una quinta aumentata Per la seconda parte della melodia Gli accordi utilizzati sono quello di secondo grado E di sesto grado L'accordo che rende questa progressione Un pochettino più particolare Rispetto al solito È quello di secondo grado Che in questo caso viene scritto In forma maggiore Invece che in forma minore Ora non so se si può utilizzare questo termine Passatemelo Facendo questa modifica sul secondo accordo Passiamo dalla scala A bemolle major classica Alla scala A bemolle lidian E quindi la progressione Ottiene un feeling completamente diverso Questa progressione in scala major normale Quindi con questo accordo qui Ovvero l'accordo di secondo grado Minore Suonerebbe così Mentre portando questo accordo a maggiore Quindi spostando sopra di un semitono La terza La progressione suona così L'ultimo accordo invece è questo Quindi la progressione completa sarebbe 1, 3, 2, 6 In scala lidian In chiave A bemolle Le note che ho aggiunto in questa parte Più in alto Sono le note che fa il pad Nell'outro E in questo piccolo stacco Qui diciamo Che c'è tipo nella prima parte Della strofa In questo caso sono A sharp Che sarebbe La root note Dell'accordo Poi abbiamo F Che sarebbe la quinta G sharp Che in questo caso sarebbe La terza Dell'altro accordo E poi abbiamo D sharp Che sarebbe la settima In questo caso D sharp Crea tantissima tensione E diciamo una grande scelta Che hanno fatto Di suonare questa nota In questo punto qui Che è veramente molto molto feo Come vi stavo dicendo prima È super importante Il fatto che in quel cambio Si passi da major A lidian Perché ovviamente Crea un feeling Completamente diverso Proprio solo per quei punti lì Quindi è super super importante Perché come potete vedere Per la maggior parte del pezzo G accordi sono semplicemente Primo e terzo Solo in alcuni punti Ci danno quei due accordi Che sono il secondo E il sesto Che ci danno quel feeling Un pochettino diverso E rendono la produzione Molto molto variegata Diciamo Contro riguardo ai drums Ho un primo kick Che è un kick Abbastanza interessante In questo caso Sono andato a tagliarlo Molto nelle alte E ho fatto un po' di modifiche Questo è come suona Senza effetti Sopra ci ho messo L'envelop Per andarlo a tagliare E fare un pattern Diciamo che suonasse In un certo modo Adesso vi spiego Perché l'ho fatto E poi ovviamente Ho tagliato le alte Tramite questo Fabfilter Ho tagliato anche Un pochettino le basse Per renderlo meno potente E ci ho messo sopra Giusto un decapitator Che non fa molto Giusto una piccolissima saturazione Sono andato con l'envelop A tagliarlo In modo da poter fare Questa roba Ovvero che in alcuni punti Si sente solo la parte iniziale Quindi solo il transiente Del kick Mentre negli altri punti Si sente proprio il kick Completo E quindi viene fuori Un pattern del genere Poi ovviamente Ho fatto modifiche Per quanto riguarda Velocity E modifiche Per quanto riguarda Il cutoff Quindi oltre al taglio Con l'equalizzatore C'è anche un taglio Con il cutoff interno Di FL Studio Per rendere questo kick Ovviamente un pochettino Più chiuso Il pattern è molto interessante Perché richiama un pochettino Il battito del cuore E questa è una cosa Che ovviamente Crea un sacco di intimità Nella parte iniziale Del beat Quindi è super importante La scelta di questo pattern qui E quindi il tutto Suona così Tutto il pezzo Poi hanno utilizzato Una specie di riser Reverse synth Reverse vocal Che fa la nota F sharp Se non sbaglio Che in questo caso Sarebbe per il primo accordo Una sesta Anche questa cosa È da tenere in mente Per quanto riguarda poi L'overall feeling Del beat Quindi non credo Che sia un caso Che abbiano suonato Questa nota qui Con questo riser Io in questo caso Ho utilizzato un riser Preso dal cashmere Volume 2 Non è proprio uguale Ho cercato in tutti i modi Di farlo suonare uguale Saturandolo tantissimo Tramite decapitator E saturn Quindi ho fatto proprio Una grandissima saturazione E sopra poi ci ho messo Giusto un po' di Fab filter Per tagliarlo E poi ovviamente Un panning Che va da sinistra a destra Per renderlo Un pochettino più stereo E suona in questo modo Si avvicina un po' A quello del pezzo originale Ma quello originale C'ha un tono Leggermente diverso Che non sono riuscito Ho utilizzato proprio un altro sample Che non è questo però Oppure ci hanno fatto Semplicemente una saturazione Più particolare Che ha fatto uscire Alcune harmonics Diverse dalle mie Conto riguarda il basso Ho utilizzato il drama wheelbase Di Omnisphere Il basso sarebbe Questo qui E sopra ci ho messo Un patcher Che adesso non vi sto a spiegare Ho semplicemente Diviso la parte Mid Dalla parte side Delle frequenze E sono andato poi A mixare il tutto di nuovo Questo basso Vado a suonare Semplicemente le root note Non si sente nemmeno troppo Che entra questo basso Cioè si sentono Effettivamente le frequenze Che vengono riempite Ma non è troppo invasivo Con il piano Quindi suonano G sharp E C Che sono root note Del primo e terzo accordo E poi suonano La A sharp E la F Che sono le root note Del secondo e del sesto Per quanto riguarda Le drums Per la strofa Abbiamo un kick Dritto Ho utilizzato questo Di Oliver Però non sono sicuro Che sia questo Sicuramente non è questo Però ci si avvicinava Un pochettino Sopra ci ho giusto Fatto un po' di cut Sull'out Del sampler Di FL Studio E poi un transient processor Per chiudere un pochettino L'attacco Poi le altre drums Sono uno shaker Messo con questo Patter così Offbeat E uno snare Che è messo Leggermente fuori griglia Come potete vedere Anche dalla waveform Qui in alto E fa questa roba qui Fa in controbattuta Quindi suona tipo così Il tutto E il tutto Per questa prima parte Viene così E qui c'è quel filtro cut off Quando fa la strofa marra Un po' particolare Punta così Quindi c'è semplicemente Un filtro cut off Sul master Che chiude tutto In modo da far suonare Questa roba così C'è un pochettino di resonance Giusto per dare Questo effetto Che fa Così E poi abbiamo In questa parte Una lead Di sottofondo Un drone Diciamo C'è semplicemente Questa roba Che suona sempre F Quindi ripetono di nuovo Questa nota Che in questo caso Come abbiamo detto prima È la sesta Del primo accordo E questo è Un semplice lead and answer Preso sempre dal cashmere Volume 2 È una specie di vocal Se non sbaglio Sopra ci ho messo Giusto un po' di Valhalla vintage verb Bob filter Kickstart Per dare quell'effetto Di sidechain Filter after boy Per farlo diventare Un pochettino più dark Suona così Sta roba Questi sono tutti elementi Di atmosfera Che hanno aggiunto In sottofondo Che sono super utili Per dare quel qualcosa In più In alcuni punti Quindi suona così Quindi suona così Poi abbiamo il primo cambio Che entra in questo modo Insieme al pad Il pad ho utilizzato uno Di Omnisphere Non ci sono stato troppo dietro Ho utilizzato principalmente Agape Sheen Se si pronuncia così Di Omnisphere Unito a un altro pad Ho preso i primi due Che mi suonavano Il più simili possibili A quello originale E il secondo È l'Enigmatic pad vibe Sopra ci ho messo Un Valhalla vintage verb Ci ho messo Un Decapitator Per saturare tantissimo I pad Kickstart Per dare quell'effetto Di sidechain E Fabfilter Per chiudere un po' Le altissime E questo pad Come vi ho detto prima Fa quelle note più alte Di cui stavamo parlando E suona in questo modo Un po' di lag Fa sempre bene E qui poi abbiamo Un Tambourine Transition Preso dal Kashmir Questa qui Credo che qui Abbiano messo anche Un altro impatto Ma non mi sono messo A cercarlo C'è un altro White Noise Tipo Quindi poi qua C'è di nuovo Uno switch In cui si chiude Completamente Il piano E la drums E c'è quella parte Molto intima Molto fega Di marra Molto molto bella Questa parte E poi il tutto Riparte con il piano E basta Sempre con il riser E si ripete Tutto Di nuovo A questo punto Ho messo Un FX Di crowd Di folla Non è quello giusto Ce ne saranno Un milione Di questi FX Quindi non so Quali abbiano preso Credo che utilizzino Splice Qui abbiamo Semplicemente Dei tagli Nella strofa Che si va Alternare con il riser C'è questa transition Che è l'ultima Che ho aggiunto Che è un symbol Un reverse crash E suona in questo modo Nulla di troppo particolare Suona così Adesso lagga Lagga quando c'è il pad Questo maledetto computer Così non lagga E chiudiamo gli occhi E non ci pensiamo Non lagga FL non deve capire Che abbiamo paura Del lag Ecco L'ha capito Beat è veramente Molto molto figo Fatemi sapere Se vi è piaciuta Questa reprod È uscito abbastanza bene Come sempre Lasciate un like Scrivetevi Fate quello che volete In descrizione Come sempre Trovate il link A Instagram Beatsters E Patreon Patreon potete Scaricare l'FLP Di questo remake Insieme a tutti gli altri FLP E i miei sample pack E i miei video aggiuntivi Instagram potete Ricevere tutti i vari Aggiornamenti Per quanto riguarda Nuovi video Nuove live Tutto quello che volete E infine Beatsters Se volete acquistare I miei sound kit O miei beat Fate voi Ci becchiamo Nel prossimo video Bella